Ciao ragazzi sono Chris e benvenuti nel mio canale Oggi parliamo nuovamente di incisori laser e di un accessorio che ci consentirà di velocizzare i nostri lavori soprattutto quando dobbiamo effettuare diverse incisioni su pezzi già pretagliati con delle forme irregolari e dove ci viene male proprio per queste forme irregolari andare a vedere il frame preciso preciso perché magari come può capitare, avviciniamo alla telecamera, può capitare di fare delle incisioni appunto in questo caso ci sono le orecchie qui c'è una forma strana quindi andare a fare il frame se dobbiamo fare una scritta ad esempio in orizzontale e verticale il frame non prenderà la sagoma precisa il frame prenderà la sagoma totale soprattutto se questa parte è un po' decentrata oppure dobbiamo andare a fare questa incisione qui questo strumento ci permetterà quindi di fare tutti questi lavori contemporaneamente perché altrimenti li dovremmo fare uno per volta risparmiando quindi tantissimo tempo di che cosa stiamo parlando? di questa telecamera del Atom Stack che si chiama Maker AC1 è una telecamera che si abbina al Lightburn quindi funziona con qualsiasi incisore laser di qualsiasi marca ci consente di avere una visuale perfetta del nostro piano di lavoro direttamente dentro Lightburn e poter allineare le nostre scritte, i nostri disegni, i nostri loghi direttamente sull'oggetto posizionato lì guardando direttamente l'anteprima del piano di lavoro l'operazione inversa di quello che facciamo normalmente senza telecamera noi senza telecamera cosa facciamo? mettiamo il pezzo qui andiamo Lightburn, facciamo il frame, vediamo il laser che ci va cerchiamo di capire un po' cercando di allinearci proprio con la nostra visuale con dei riferimenti a meno che non abbiamo una specie di catena di montaggi quindi ci siamo magari creato una piccola dima sul pezzo ma quando andiamo a fare pezzi nuovi o pezzi che ci vengono consegnati magari ci danno il cucchiaio di legno ci danno il tagliere cose che non abbiamo mai fatto finora facciamo il frame e cerchiamo di allineare più o meno poi con il rischio che magari viene un po' più spostato a destra non viene perfettamente centrale perché il frame certe volte non riusciamo a farlo preciso poi se il frame ha il puntatore laser rischiamo di fare un piccolo segnetto con questa telecamera il procedimento è inverso posizioniamo il pezzo tramite programma acquisiamo l'immagine del pezzo posizionato prendiamo la nostra scritta, lo andiamo a mettere sopra il nostro pezzo lo allineiamo, lo facciamo mandiamo incisione e tutto verrà fatto in modo preciso e veloce e con la possibilità di fare più pezzi contemporaneamente quindi mandiamo il processo di incisione che può durare un'oretta, un'oretta e mezza e noi pur stando sempre nelle vicinanze perché il laser non va lasciato solo ci possiamo dedicare a un'altra cosa allora mentre ve la faccio vedere un po' da vicino com'è fatta, due caratteristiche veloci e veloci poi vi faccio vedere come arriva rapida panoramica su come si configura e vi faccio vedere come funziona, come lavora e i vantaggi che abbiamo nell'utilizzare questa telecamera prima di continuare vi voglio ricordare un gruppo facebook che ho creato da poco si chiama Lasermania, creazione e progetti con incisori laser sta crescendo molto bene abbiamo superato da pochi mille iscritti ed è un gruppo dove tutti gli iscritti condividono la loro esperienza condividono i loro progetti e soprattutto chi è alle prime armi può chiedere consigli, opinioni soluzioni ed eventuali problemi sfruttando l'esperienza degli utenti più esperti iscrivetevi perché è il posto giusto per imparare ad usare l'incisore laser e crescere facendo dei lavori sempre più belli allora Atom Stackmaker AC1 telecamera da abbinare a Lightburn però vi posso dire che io ho provato ad utilizzarla con un altro programma tipo OBS Studio per registrare effettivamente nella fase della lavorazione un timelapse e si può utilizzare tranquillamente lo riconosce come telecamera normale possiamo registrare anche un bel timelapse venduta nel sito dell'Atom Stack sito che vi metterò in descrizione e spero di poter avere anche un codice sconto da fornirvi ma senza codice sconto venduta a 114 euro e anche se può sembrare un optional costoso 100 euro, 110 euro, 113 euro voi dovete valutare tutto il tempo che vi fa risparmiare e se lo fate per lavoro di conseguenza tutto il guadagno in più che vi permette di ottenere risparmiando appunto quel tempo la telecamera è piccolina, misura 42 mm x 42 mm ed è spessa 29 mm quindi veramente molto piccolina permette di catturare un'area di incisione di 400 x 410 mm una volta calibrata, se calibrata bene ha un'accuratezza di un solo millimetro poi noterete che in fase della calibrazione zona centrale è quella dove ha una precisione proprio veramente elevatissima e magari spostandoci verso la zona periferica si perde un po' questa precisione e arriviamo al massimo di spostamento diciamo di questo millimetro ma se voi dopo che la calibrate fate qualche prova potete prevedere questo millimetro di range andando verso la parte laterale e quindi anticipare questo piccolissimo errore piccolissimo che quasi non si vede però può capitare di fare oggetti veramente piccolini io ho fatto dei test molto precisi e di vedere una levissima differenza voi lo sapete fate dei test prima delle prove e lo compensate e ha un sensore CMOS da 5 megapixel quindi anche nell'utilizzo per registrare i nostri lavori con un timelapse la qualità video è ottima e registra in 2592 pixel per 1944 allora nel sito c'è scritto che funziona con Lightburn però voglio dire già Windows la riconosce e mi permette di fare l'anteprima dell'immagine anche senza utilizzare nessun programma utilizzando Windows la vede come webcam come telecamera USB già Windows la riconosce quindi se già Windows la riconosce se ci sono altri programmi che utilizzano questa funzione sicuramente può essere utilizzata anche da altri programmi va bene vediamo come arriva contenuto della confezione veloce montaggio cioè due parole sulla configurazione allora arriva in questa scatolina piccolina dove tutto è all'interno di questa spugna questo è tutto quello che troviamo all'interno abbiamo un fogliettino di carta con questa trama palline che serve per la calibrazione anche questi 5 fogliettini di cartone con un biedesivo sul retro serviranno per la calibrazione un metro per misurare la distanza della telecamera al piano di incisione il sistema con due bracci e lo snodo la staffa per il laser la sfera per la telecamera la nostra telecamera USB e un manuale di istruzioni scritto anche in italiano dove sono tutti i passaggi per il montaggio che è molto semplice la configurazione dentro Lightburn e la calibrazione nel canale YouTube Atomstack ci sono un paio di video tutorial che vi fanno vedere sia il montaggio che l'installazione la configurazione e la calibrazione della telecamera sono molto chiari quindi non mi soffermerò troppo su questi passaggi ma li vedremo così molto velocemente prima di montare vediamo che la staffa come vedete è da 5 mm spessa tutto di metallo questo che vedete qua all'interno gomma e gomma perché questo andrà a stringere da qualche parte sul telaio del nostro incisore laser questo per regolare e questa misura massima è di circa 10 cm quindi 10 cm ci arriviamo allora questa è tutta una struttura di metallo questo di metallo questo di metallo da questo lato abbiamo anche la misura dell'altezza questo doppio snodo invece di plastica di qua stringiamo questo e con questo pomellino andiamo a regolare sia l'inclinazione che la profondità poi stringiamo la parte terminale quella più sottile corrispondente con lo zero va inserita in questo punto dalla parte finale invece andiamo a mettere che lo possiamo mettere direttamente ora perché poi andarlo a ruotare in questo modo verso il basso in questo attacco filettato che è il classico un quarto di pollice delle fotocamere andrà la nostra telecamera telecamera come vedete è molto molto piccola tutta di alluminio e poi con un cavo usb andiamo a montare ok posso ruotare così ho la scala millimetrata a vista e quindi poi di conseguenza sistemo anche questa ok mi sistemo questa un po' meglio perfetto qui abbiamo un controdato così andiamo a bloccarla allora il cavetto è lungo un metro e mezzo e così tranquillamente arriva al pc senza interferire con i movimenti del laser per la calibrazione mi serviranno questi cinque pezzi di cartoncino e questo qui con tutti questi pallini che poi il programma lo riconosce per calibrare meglio la nostra telecamera ora questo passaggio non ve lo faccio vedere perché vi metterò il link in descrizione per andare a prendere il video dell'automstack per vedere passo passo tutte le operazioni che dovete fare per calibrarlo se non volete vedere il video nel manuale è spiegato molto semplicemente allora i passaggi molto semplici ma vi voglio dire solo una cosa che mi ha fatto fallire tre calibrazioni in una prima fase si mettono i cinque cartoncini di cartone si fa un quadrato con una x al centro si manda l'incisione dopodiché si regola bene l'altezza della telecamera e si inizia la calibrazione con un fogliettino fornito in confezione quello bianco con i pallini neri attenzione è un cartoncino lucido e se avete nella stanza delle lampade che vi creano dei riflessi il programma rileverà una forma strana di questi pallini neri e il risultato sarà una non corretta calibrazione prima di capirlo ho dovuto fare due tentativi poi ho semplicemente spento tutte le luci led che avevo nella stanza aperto la finestra quindi luce naturale e facendo questo la calibrazione ha avuto successo come ve ne accorgete che ha avuto successo che poi il laser è molto preciso nei comandi che date e non c'è disallineamento tra quello che vedete nello schermo e quello che il laser effettivamente va ad incidere praticamente quando apriamo lightburn con la telecamera installata e configurata questo è quello che vediamo sulla parte destra in quel piccolo riquadro vediamo ciò che vede la telecamera in tempo reale quindi se passiamo la mano davanti se facciamo qualche movimento lo vediamo in tempo reale mentre quello che vedete in trasparenza e potete decidere la percentuale di trasparenza nell'area di incisione è un'acquisizione che fate quando vi serve allineare il pezzo quindi posizionate il pezzo nel piano di lavoro fate un frame di acquisizione e vi verrà messo in trasparenza nell'area di lavoro attenzione che se poi spostate i pezzi e non fate nuovamente l'acquisizione la posizione del pezzo non corrisponde più ora prendete il vostro logo il vostro disegno o come sto facendo io una semplice scritta e la posizionate sopra il pezzo da lavorare sfruttando appunto questa trasparenza potete quindi far partire l'incisione senza bisogno di fare il frame questo è in assoluto il primo pezzo che ho fatto con questo sistema e mi sono reso conto che c'era un lievissimo disallineamento dovuto all'errore di calibrazione causato da un'errata lettura dei pallini neri a causa del riflesso causato da delle luci led che avevo nella stanza come vi dicevo all'inizio ho rifatto la calibrazione in realtà l'ho fatta altre due volte fino a quando poi sono riuscito a concluderla con successo doveva venire un po' più centrale dopo aver fatto correttamente la calibrazione ho fatto tantissime prove per capire se era andata a buon fine e come vedete per le prove ho fatto dei piccoli pallini dei piccoli segnetti delle figure tutte a mano per poi andare a disegnare dentro la headburn le forme che mi servivano a verificare la precisione della telecamera che potevano essere quindi puntini potevano essere degli X o delle forme geometriche irregolari a seguire quello che avevo disegnato io appena ok ragazzi dopo tre calibrazioni sono riuscito a centrare perfettamente l'allineamento tra telecamera e quello che fa il laser allora faccio un puntino vi faccio vedere ora faccio un puntino qua aggiorna ok ok questo è il puntino prendo il mio dischetto e lo vado a mettere sopra il puntino non faccio nemmeno i frame metto all'avvia prima giro la telecamera ok andiamo con lo zoom a 10 vediamo se ci vede si e vado a avvia ok guardate faccio una figura qualsiasi questa specie di triangolo bruttissimo aggiorna sovrapposizione ok vediamo di seguire anche la forma vabbè ci piace fare questa cosa ti facciamo fare questa cosa perfetto perfetto come è a schermo ora giro nuovo la telecamera guardate lì guardate qui lo metto in una posizione qualsiasi vado a fare la l'aggiornamento mi è spuntato qui lo sposto nuovamente lo metto così aggiorna sovra posizione ok mi ha fatto vedere questo faccio lo zoom togli prendo il mio disegno quello che dovevo fare farò semplicemente una lettra a a e vado vai guardate ragazzi in diretta che precisione se per esempio noi realizziamo piastrine come questo con il nome dei gattini i nostri chignolini non c'è bisogno che andiamo a realizzare dime la posizioniamo dove vogliamo aggiorna posizione prendiamo il nostro logo la nostra immagine qualsiasi cosa ce lo piazziamo di sopra e mandiamo l'incisione senza problemi allora ragazzi che dire nell'intro del video vi avevo già descritti tutti i vantaggi nel corso del video li avete visti con i vostri occhi non voglio aggiungere altro spetta voi decidere se in base ai tipi di lavori che dovete fare vi può tornare utile o meno nel caso in cui volete comprarla link in descrizione e spero di avere un codice sconto da potervi fornire per farvi risparmiare qualcosina mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un like commentate dite cosa ne pensate iscrivetevi al canale e attivate la campanella ciao